Aumento del 20% di visitatori, 539 le aziende espositrici, oltre 70 seminari in programma. Sono i segnali positivi per il settore della ricettività trentina che stanno emergendo alla 41esima edizione di Expo Riva Hotel, evento dedicato ai professionisti dell'ospitalità e della ristorazione professionale, in programma fino a mercoledì al quartiere fieristico di Riva del Garda. L'inaugurazione è stata aperta dal presidente Roberto Pellegrini, con i ringraziamenti alla provincia autonoma di Trento, alle istituzioni, alle associazioni di categoria, come ad esempio Confcommercio di Trento, UNAT e ASAT, al mondo del credito con Cassa Rurale Banca e Cassa Rurali Alto Garda, a tutti gli espositori e operatori che in questi giorni partecipano alla manifestazione fieristica. Il mondo del turismo oggi fa riferimento a Expo Riva Hotel, un evento che non ha mai dimenticato di essere al servizio di chi opera nel settore alberghiero, dalla ristorazione dei servizi mettendosi a disposizione degli operatori con un'offerta a 360 gradi. Una manifestazione che si sviluppa su 25.000 metri quadri, con un fatturato commerciale in crescita rispetto a 2016, con un più 16%. C'è anche un impegno nel sociale con l'adesione al progetto Food for Good e il sostegno offerto al caseificio storico di Amatrice. Expo Riva Hotel ha aperto i battenti questa mattina alle 10 e devo dire con grande orgoglio che già alle 12 c'era un più 20% di visitatori. Questo è probabilmente dovuto alla grande comunicazione che abbiamo fatto per questa edizione della manifestazione, manifestazione che negli anni è rimasta unita con i suoi quattro macro settori merceologici. Infatti l'operatore che viene in visita ad Expo Riva Hotel ha la possibilità di vedere a 360 gradi tutto quello che è necessario per il mondo dell'ospitalità. Il settore che quest'anno ci ha dato grande soddisfazione e anche un grande ritorno è il settore del wellness e dell'eco e del risparmio energetico. Lo abbiamo addirittura raddoppiato, infatti abbiamo aperto l'ottavo padiglione, quindi questa edizione con un padiglione nuovo in più. Sì, dentro questa importante manifestazione abbiamo riproposto due settori speciali, li hai appena nominati tu, Solo Birra, che ha oltre 25 birrifici artigianali, un evento particolarmente professionale dedicato solo agli operatori del settore. Expo Riva Mixology è la nuova tendenza dei pub, dei pubblici esercizi, la figura del bartender è diventata ormai una figura importantissima ed è una nuova tendenza del futuro. Quindi durante la manifestazione si possono frequentare i seminari organizzati da un grande marman, Leo Veronesi, e si può apprendere e fare direttamente formazione sul campo. Expo Riva Hotel Academy è il nuovo format di Expo Riva Hotel, un format dedicato alla formazione. La formazione è quest'anno il filo conduttore della manifestazione. Abbiamo anticipato in due località turistiche, Iesole Rimini, dei seminari delle tendenze dell'ospitalità, coordinati da un grande esperto, che è Mauro Santinato, ideatore di Teamwork, una società riminese che fa formazione. A Expo Hotel, durante queste quattro giornate, sono oltre 70 i seminari con i professionisti che lui metterà in campo, ma andremo avanti anche dopo la manifestazione, saremo presenti su tutto il territorio italiano con ben nove tappe in nove importanti città italiane. Quindi la formazione è il filo conduttore dell'evento.